Non puoi lasciare me e l'umana. Ne abbiamo passate troppe. Non lo permetterò. Puoi venire con me se ti va. Non lascio l'umana e non lo farai neanche tu. Ora noi andiamo a casa. Ma che cosa? I sedili sono stretti. Anna, è meglio risolvere il problema principale. IT, dobbiamo rimettere insieme questa famiglia. L'universo dovrà attendere, quindi ora sali e indicami il percorso. Entra nel fascio di luce e ci parte la destilazione. Sì, ma quale? Questa è la quale? Maggiù il più lontano? Non il prossimo. Deve essere più precisa. Ce la faremo. Andremo a casa dall'umana. Tutti e due. Abbiamo un codice marrone qui. Sì, fai. Fai.